Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Finalmente siamo arrivati al nostro primissimo video su YouTube. Mi presento, io sono Christian e sono il cantante del gruppo. Qui vicino a me ci sono gli altri elementi del gruppo e sono Lorenzo, il chitarrista. Marco, il batterista. Con questo video vogliamo appunto presentare il nostro canale dove ci saranno tantissimi video, di cui live, video backstage, video ufficiali, di cui gran parte le faremo in cover e cercheremo anche di mettere sul canale anche delle canzoni nostre. Ma ci saranno anche dei video per eventi speciali e tanto altro ancora. Noi inoltre faremo delle basi delle canzoni strumentali con chitarra, batteria, tastiera, senso alla voce. Quello che principalmente vogliamo esprimere all'interno del nostro canale è la nostra passione per la musica. Da questa settimana comunque inizieranno ad uscire i primi video, probabilmente di sabato. Salve eccezioni comunque verranno comunicati sulle nostre taggine in descrizione. In genere che ci piace fare pop, rock leggero, anni 80-90, ma anche canzoni più recenti. Vogliamo quindi proporre della musica a 360 gradi. Detto questo vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video, ad iscrivervi al canale e soprattutto se volete darci dei consigli su alcune canzoni che vorreste sentire all'interno del nostro canale e scrivetelo nei commenti. Vi ringraziamo quindi per la vostra attenzione. Un saluto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Finalmente siamo arrivati al nostro... Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Finalmente siamo arrivati al nostro primissimo video su YouTube. Io... Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. eh... come direbbe, è arrivati al nostro... Eh, va bene va bene. Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Eh, non faccio pure in giù. Ciao a... Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Finalmente! Eh... Finalmente! Qui vicino a me ci sono gli altri livelli del gruppo e sono... Lorenzo, per questo E qui vicino a me ci sono gli altri componenti della band e sono Lorenzo, guitarista Marco, il batterista In questo video vogliamo presentare appunto il nostro canale dove ci saranno tantissimi video Di cui live, video backstage, non ci posso credere Noi inoltre faremo delle canzoni strumentali e delle basi Con più forte, batteria e chitarra abbiamo anche... no, mettendo la musica Noi inoltre... Noi inoltre faremo delle canzoni strumentali e delle basi Con più forte, batteria e batteria In genere che chiede Vi ringrazio quindi per la vostra attenzione, un saluto, ciao a tutti Ciao, ciao Io ero io per la prima Era così e tu sei partito Vi ringraziamo quindi per la vostra attenzione, un saluto, ciao a tutti Ciao Ciao Ciao